Ti do 50.000 dollari in contanti Però devi Ma io quando ti mando i soldi poi tu non esci Ti fai la rapina Allora guarda guarda io ho i soldi dove sono contati Cosa? Ah non te ne frega niente di me i 50.000 Non te ne frega niente di me i 50.000 dollari No Bene allora lei pensa di scappare Eh spero Eh io non lo faccio scappare Come no? No Ma lei è cattivo? Eh sì sono molto cattivo Nasconditi smette che facciamo irruzioni Nasconditi Signora breve faremo irruzione Eh sì caro Io ti ho dato la possibilità di alzare le mani Consegnarti Eh no non pigliavi l'inculata Perché ti ho detto che ti davo 50.000 dollari e te ne andavi Tu hai detto che non te ne frega un cazzo dei miei soldi Bla 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 E adesso ti faccio vedere che anche io non me ne frega un cazzo di te A breve faremo irruzione se non ti consegni Eh sì io la consegnassi ma certo O alzi le mani e esci O facciamo irruzione Smitte ti spara Nasconditi Provavo in contrapposa Ecco che mi sono scondendo Eh io ho provato a fare il buono con te ma tu non hai accettato Non ti voglio inculare Se ti volevo inculare facevo il finto tonto Eh ma uno che mi dice ti do 50.000 Eh è Natale Lo faccio Sono il comandante della polizia Mi sento di far cambiare le persone stasera Se tu esci con le mani in alto Io ti do 50.000 dollari E te ne vai Prendo i soldi della rile furtiva Perché ormai li hai represi Eh sì Lei è un poliziotto Dovrei farci un lavoro Perché è Natale Eh anche se ne posso chiudere un occhio Scusami Magari vedo che tu hai voglia di cambiare E no Certo che se fai così Sinceramente Cosa Cosa mi dai pure 50.000 Sì E ho anche 50.000 dollari Allora potremmo fare Se tu mi dai 50.000 Va bene Signore Allora sono mezzanotte e 36 A mezzanotte e 38 Facciamo eruzione Se lei non esce E quanto ho? Di minuti? La contrattazione si conclude qui Ma come va Le piccole a due minuti Eh Vabbè Vado di là Vedo Vedo Però Non lo so Io li davo davvero Raga 50.000 Dallari Giuro Gli davo Giuro Gli davo E li faceva andare via Ha sparato lui? Io non ho sparato Ok Perfetto Pronto per fare azione E tu via Partiamo Ok Aspetta un attimo Che spacco un attimo Le vetrine Un attimo capi dove è Qui Questo canale Si fa Bald Tu corri Mi dietro Ok Capito La mia tre Ok Ok Io appena entro Vado a sinistra Appena entro proprio Ok Andiamo a sinistra Vedere se c'è qualcuno a sinistra Se è libero a sinistra Andiamo dentro lo stanzino 1 2 3 Bene Ok E' dentro lo stanzino Aspetta Vediamo se c'è una Io però gliel'avevo detto signore Bene Mi ascolta Spara questo Smith Ok